E buongiorno a tutti, buon lunedì, scusate prima se ho fatto qualche, vi ho cancellato la chat a un certo punto Dicevo praticamente, su Twitch mi compare un bannerino, ho detto Ah, modalità scudo, la vuoi provare con un solo clic, tutte le funzioni Ho detto, vabbè, attiva modalità scudo, ho detto, vediamo cos'è Come ho cliccato modalità scudo, ho fatto tipo, e vi ha cancellato la chat, ha impostato mille restrizioni Perché sono corso a cliccare su disabilità, modalità scudo E scusate ancora tutti quanti, ma un buongiorno a chi è rimasto Michele Ertemis, Dungeon Store di Savona, Valentina, Lucchino, buon rientro in ufficio Ciao Camilla, ciao Cic, ciao ancora Ertemis Adesso sappiamo cosa fa la modalità scudo, esatto No, diciamo che allora, sicuramente avessi un attacco di spammers Con un clic ti fa pulizia automatica e blocca un attimo la situazione Quindi diciamo, è uno strumento di moderazione sicuramente utile Forse era più utile cliccarci in un momento in cui non eravamo in pre-live fondamentalmente Ma mi sono lasciato trarre da questo tasto Buongiorno, buongiorno, ciao da Lichicchi, ben arrivata Buongiorno a tutti quanti, signori e signori Oggi lunedì 5 dicembre, nonché ultima puntata per questo 2022 di Next Così come domani con Board & Dart e mercoledì con Night 5 Dopodiché a partire proprio dal ponte dell'8 dicembre Faremo un ponte lunghissimo che ci accompagnerà fino alla fine di queste vacanze Per poi ritrovarci poi nel 2023 qua su DungeonDiceTV Ma ultima puntata che non sarà, non sarà per questo povera di contenuti Anzi, anzi ci sono un sacco di news, un sacco di annunci super interessanti Di titoli che stanno per arrivare, arriveranno nel prossimo anno sul mercato italiano Che magari potrete già anche preordinare e ordinare E finalmente riusciamo anche a saperne di più di titoli che vedranno la luce Forse nel 2023, forse oltre oceano in qualche altra nazione europea E che chissà, magari forse avremo verso la fine del prossimo anno Magari nel 2024 Ma ci sono un paio di titoli veramente super interessanti Che sono certo che alcuni di voi andranno fuori di testa Tanto, finale di stagione, quindi colpo di scena coi botti Giusto, vi lasciamo lì con un cliffhanger finale Ed era la modalità scudo Io che attiverò la modalità scudo a caso In un punto non precisato di questa live E riuscirò a sbloccarla prima che inizi la stagione 2 Lo scoprirete soltanto Continuando a seguire DungeonDiceTV Come ha fatto la nostra camisa Proprio un attimo prima che iniziasse la live Quindi grazie, benvenuto, benvenuta E ringrazio anche Toypolar Per aver rinnovato l'abbonamento con Prime Per il quale, vi ricordo tutti quanti Se avete un account Amazon Prime Vi potete abbonare gratuitamente al canale In questo modo sostenerci E soprattutto riscattare un mese di abbonamento VIP Su DungeonDice.it Lo store di riferimento per tutto ciò che riguarda Il mondo dei giochi da tavolo Giochi di ruolo Accessori Libro game Con il quale avere un sacco di vantaggi succulentissimi Ciao Camin Grazie mille Grazie mille per essere qua con noi E Valentina infatti dice 9 spot è ora di rinnovare l'abbonamento E quella è anche un'altra dei vantaggi che potrete avere Quello di non vedere le pubblicità Nei prossimi, nelle prossime live Che ci terranno compagnia qua su DungeonDice TV Nei prossimi giorni E io vi volevo anche ricordare un'altra cosa Ma per la quale magari Se vi va ci spostiamo già di là Così inizio a parlarvene DungeonDice.it Giochi da tavolo Giochi di ruolo Accessori E buongiorno Eccoci Io intanto scusate ma mi metto un po' d'acqua nella Oh la bottiglia che si è aperta male Quando non si è rotto il cosino qua Quello L'anellino Non si è rotto del tutto Ciao Marco Ben arrivato Grazie mille per essere qua E libro game Sì l'ho detto L'ho detto libro di gioco L'ho detto Ah non c'è sulla transizione Non c'è sulla transizione Che c'è libro game Perché la transizione è giochi da tavolo Giochi di ruolo Accessori Probabilmente l'altra editoria Ovvero ciò in cui rientra i giochi I libro game Però non rientro sotto accesso Segnamolo Per il 2023 Cambiamo questa schermata Mettiamo anche libro game Per quanto è Essendo probabilmente molto Piccolina come fetta Forse non ha Senso in un claim Non lo so Non sono io che mi occupo Di queste cose Ma daremo tutta quanta La colpa a Eartemis Dicendo Eartemis si è lamentato Profondamente Questa cosa Buongiorno ciccio Grazie mille per aver Rinnovato l'abbonamento Utilizzando Prime Grazie davvero Ricordo a tutti quanti Che siete Prime Potete fare come il nostro ciccio E riscattarvi anche un mese Di abbonamento VIP Perché Se siete VIP Avete scontistiche particolari Avete dei giochi In offerta solo per voi Avete delle soglie di spedizione Più basse Se siete VIP Su DungeonDice.it Buongiorno intanto anche a Mister Simo Ma in questi giorni Visto che stiamo ormai Giungendo al Natale Sappiate che È già iniziata Il primo di Il primo di dicembre Già l'avrete visto Perché è partito Lo scorso giovedì E fino al 24 di dicembre Per Ogni giorno Giorno per giorno Come Stanno facendo anche Giulia e Nicola I miei figli Con il loro calendario Dell'avvento Della Lego E l'altro con i cioccolatini Ogni giorno Si apre una casellina Dentro la quale C'è una piccola sorpresina E DungeonDice Quest'anno ho pensato Di fare anche con voi Questo periodo di avvento Questo calendario Dell'avvento Con giorno per giorno Una sorpresina Per voi Ovvero Una selezione di titoli Messi in offerta Per voi Per tutti quanti Per ringraziarvi Grazie mille Valentina Grazie davvero Per aver rinnovato L'abbonamento Con Prime E quest'oggi Quest'oggi Nel calendario Dell'avvento Di DungeonDice Che come vi dicevo Appunto Dall'1 Fino al 24 Ogni giorno Si aprirà una casellina E da questa casellina Uccirà qualcuno Uccirà una Selezione particolare Fatta da qualcuno Da qualche Magari personaggio Che conoscete anche voi O magari Per una data tematica Allora si Usciranno Dei giochi Dei premiati Per esempio Ieri C'è stata una selezione Di giochi GetOnGames Che ancora oggi Potete avere accesso Perché ogni Casellina dell'avvento È valida Da mezzanotte Fino alla mezzanotte Del giorno dopo Quindi due giorni pieni E invece Oggi si è aperta La casellina Dalla quale è uscito Il mio faccione E io oggi Ho pensato Visto che Così non ne avevo mai parlato Esatto Come anche Camilla Infatti bene sa Io non è Un titolo Un titolo Di cui Mi avete mai sentito parlare Ma Trovate in offerta Tutti quanti Gli Unmatched Quindi prego Non c'è di che Vi ho fatto mettere in offerta Tutti quanti Gli Unmatched Tutti 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 Terranne Gli Ingen Contro i Raptor Che visto che era due anni Che non si trovavano più Sono volate via come il pane Non è già più disponibile Ma tutte le altre Le due scatole Marvel Redemption Row E Hell's Kitchen La scatola con il T-Rex E la dottoressa Sattler Le due espansioni piccole Localizzate in italiano Da Man Calamaro Robin Hood Contro Bigfoot E Biowulf Contro Cappuccetto Rosso E le tre scatole grandi Volume 1 E volume 2 Di Battle of Legends E Cobble and Fog Le trovate tutte quante Scontate al 25% Sapete che è un titolo Che a me piace un sacco Grazie mille a TheDegio Per esserti abbonato E intanto hai fatto anche partire Live Train 22 mesi Tra l'altro che TheDegio Ci sostiene Quindi grazie davvero di cuore Renato ci dice Che se siete a Napoli Alle ultime due copie Dei Raptor Di tutta Italia Andate a Napoli Andate da Renato A prendervela Perché poi non la troverete Mai più ragazzi Io ve lo dico Non la troverete mai più Restoration Non ha più le licenze Per far uscire prodotti A tema Jurassic Park E infatti ha ristampato questa Perché ce l'aveva pronta A differenza di quella Con il Dottor Grant Su cui stava lavorando E che hanno abbandonato Quindi o le prendete da Renato O non le trovate più E per tutte le altre Le trovate invece A ToDungeonDice.it Per oggi Fino alla mezzanotte di domani Tutto scontato Del 25% Affrettatevi E poi continuate a seguire Giorno per giorno Le varie caselline Che si apriranno Perché ogni giorno Ci saranno delle offerte speciali E come avete già visto Giulia Siccome avete già visto me Magari Forse Chi lo sa Comparirà anche una casellina Dedicata a Vale Comparirà anche una casellina Dedicata a Silvia Il gioco Cosa ci sarà in quelle caselline Chi lo sa E soprattutto Cosa ci sarà A riempire ancora Tutte le altre 19 caselle Che ci mancano Di qua Fino alla vigilia Di Natale Per la quale Già da adesso Inizio a farvi I miei migliori auguri In carrello volume 2 Grandissimo lacerato Grandissima Scusami Ottimo 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 Bene Non vedo l'ora Che tu possa passare Tanto tempo divertendoti Con uno dei giochi Per me Indubbiamente Più belli degli ultimi anni Che così Quando mi hanno chiesto Ma vuoi consigliare qualche gioco Per Natale Li mettiamo in sconto E ho detto Nessun problema Tutti gli amici che ci sono Metteteli tutti assieme E quindi Ci ho messo pochissimo Fare la mia scelta E quindi spero che La cosa possa fare Piacere anche a voi E grazie mille a Dungeon Dice Per aver pensato Anche a questa Piccola così Cosuccia Che ci accompagna Fino al Natale Che giorno per giorno Comunque ci invoglia Ci fa scoprire Magari quel qualcosina Che sotto l'albero Ci può star bene Se non per noi Magari per qualcuno E proprio A questo proposito Signore e signori Io se C'eravate lunedì scorso Sappiate che a un certo punto Mi avete chiesto Un'informazione Mi avete chiesto Un qualcosa Sono andato A vedere Sono andato A buttarmi Nella Nella Nell'home page Di uno dei tanti siti Che seguo Per andare Per l'appunto A scoprire Ciao Nico Buon caffeuccio Non è preferenze Pigrizia Non è vero Non è vero Simo Dicevo Sono andato Su una di queste Home page Di questi siti Dove mi informo Dove vado a pescare notizie Vedo una roba Per cui ho iniziato Ad andare fuori Di testo No ma è meravigliosa Sta cosa No ma Ve ne parlerò Poi lunedì Non posso adesso No è troppo bella È troppo bella Io una settimana Che voglio Raccontarvi Il fatto di aver trovato Il regalo Perfetto Da fare a un qualsiasi appassionato Di giochi da tavolo Da farli trovare sotto l'albero Perché Il problema qual è Boh Siete miei amici Mi volete bene Mi volete fare un regalo a me Che sapete che ho casa Invasa dai giochi da tavolo Dici Gli piaceranno un sacco I giochi da tavolo No Ma cosa gli regalo Un gioco da tavolo Che verosimilmente 99 su 100 Già ce l'ha Gli regalo un gioco Che magari Non gli piace Gli regalo un gioco Che non so cos'è Ecco che secondo me Questo è perfetto È perfetto Anche per la Mamma Nonna Zia Compagna Cugino Che vuol farci un regalo Perché sa che siamo appassionati di giochi Ma non sapendo andare Su un gioco preciso Con questa cosa qua Si svolta Si svolta Si svolta Da fare a Nico Volendo anche Perché Hanno tirato fuori Io non so se vi ricordate Qualche anno fa Un paio di anni fa Uno o due anni fa Proprio nel periodo nato e inizio Gwyneth Paltrow Che salutiamo Aveva tirato fuori Una roba Una roba Che magari molti di voi si ricordano Ok Il regalo Perfetto E la candela Che profuma Di odore Di gioco Da tavolo Nuovo Ed è geniale Perché la candela Che sa Di gioco Perché sa Di cartone Sa di carta E sa di inchiostro Signore Signori Esatto Marco La candela Di Gwyneth Paltrow Questa Tutta un'altra fragranza Sicuramente Anche più piacevole Ciao Gabri Signore Signore La vendono Esiste Esiste E des jeux Esatto Grazie FantaBrosTV Grazie mille ragazzi Per il ride Grazie davvero Un salutone Un mega ringraziamento Noi abbiamo appena trovato La candela Che profuma Di gioco da tavolo nuovo Perché qua si parla Di giochi da tavolo Questo è il canale Twitch di DungeonDiceTV E io adesso Vi faccio anche Subito Un mega Guarda Ve lo faccio al volo FantaBrosTV Vi faccio un mega shoutout Grazie mille davvero Seguiteli Mi raccomando Grazie intanto Anche per aver completato L'hype train E mille cose Grazie a Palegname Grazie a Salvo Benvenuti tutti quanti Grazie mille bros Dicevo Dicevo Candela Che profuma Di gioco da tavolo nuovo Perché qua su questo canale Principalmente si parla Di giochi da tavolo Specialmente oggi Che è lunedì E ogni lunedì Alle 13 In Next Si parla di tutte quante Gli annunci Le novità Legate al mondo Dei giochi da tavolo Anche robe un po' più strane Tipo questa qua Ma regalo perfetto Per questo Natale Perché altro che quella fatta da Gwyneth Paltrow Un paio di anni fa Questa qua Si che a me Farebbe piacere Averla in casa Perché guardate come Addobba Come rende Gioiosa E fragrante La La vostra casa Quanto Che bel clima Che crea Così in mezzo alle piante morte Come quelle che ho a casa Perché lì hanno fatto seccare addirittura Una pianta grassa Sembra No Non l'ho voluta copiare io Ma hanno avuto Un'idea Secondo me Geniale Ho speso un mezzo stipendio su Dungeon Dice Per il Black Friday Vi odio Anzi vi amo E noi amiamo voi Grazie davvero Ci fa super piacere La vorrei color wingspan Esatto potrebbero anche farlo In diverse colorazioni Perché così Giusto Renato Quando entrano in casa Devono subito capire Con chi hanno a che fare Esatto Signore e signori E qua c'è ancora Questa bellissima Così qua in mezzo a Questo ambiente Anche un po' spoglio Ecco che però Questa candela Che emana Questa fragranza Di gioco nuovo Appena aperto Appena defustellato E signori Svolta assoluta Quelli che rivendono I giochi come nuovo Anche se in realtà Sappiamo tutti Perfettamente Che ci hanno giocato Gli accendi la candela Che odora di gioco nuovo Vicino Gliela fai andare Un po' sopra Chiudi In fretta la scatola Che l'odore di gioco nuovo Resti dentro E così Quando la aprono Arriva l'aroma Di gioco nuovo E possono Veramente Fingere ancora di più Che il gioco Sia nuovo Appena aperto Ho mai usato Boom Boom Mi sento tipo Il meme del tizio Con la testa Che gli esplode Boom Ecco Quanto è geniale Quanto è geniale Ci vorrebbe anche La candela Che sia di gioco Vissuto Con un po' di San Simone Sopra Volendo Volendo Si E' fatto Odora ancora di nuovo Marco Dove si può trovare Si può trovare Sul sito Che mi sono tenuto Qua aperto CMYK Ovvero CMYK Punto Qualcosa Punto com Penso CMYK Punto games Punto eccetera Eccetera E' un sito americano Purtroppo Allora loro danno La spedizione Allora dura Sono 260 grammi Di candela Brucia Per 50 60 ore Costa scontata Perché è scontata Costa 40 dollari Più abbiamo la spedizione Più abbiamo la dogana Per farcela arrivare qua A meno che qualcuno Le voglia importare In grandi quantità E allora Questo è un altro discorso Io la trovo Atta Però un'idea Genialissima Genialissima Ciao Enmi Ciao Esatto Mister Simo Con il suo The Hunger Quanto costa E' alla faccia Del bicarbonato Di sodio Però Vuoi mettere Cioè Costa quanto Un gioco nuovo Se tu Ami Aprire Prenderti i giochi Solo per aprirli Annusarli Con questo Hai svoltato Hai svoltato E In questo punto Mi compro un gioco nuovo Ma Non ti dura 50 60 ore L'odore Di gioco nuovo Per casa Però se chiediamo Mario di importarla Chi lo sa Magari Il prossimo Black Friday Per una buona longevità Scala bene Perché ti puoi anche mettere In 4 8 Anche da solo A guardare Queste candela Che brucia E rimanere Ammaliato E Dungeon dance Giochi da tavolo Giochi di ruolo Accessori E candele profumate Potrebbe essere Un nuovo business E mai Dire mai Signore Io questa cosa L'ho trovata Comunque Divertentissima Quando l'ho visto Mi sono proprio 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 Divertito Un sacco Per l'idea Che abbiano fatto La E E Dei Che Che Già suona Da dio E De Je E Veramente Eccezionale Grazie mille A Falegnameria Fibris Buongiorno Benvenuti Grazie mille Per essere qua A mirare assieme a noi Questa candela Che sa di E De Je Di Gioco da tavolo Nuovo Che sa di Papier Carton E Ancre Quindi Carta Cartone E Inchiostro Meravigliosa Meravigliosa Fa un sacco Ambiente Ottimo regalo Di Natale Peccato che La vendano solo In America Per il momento Ma Chi lo sa Quanto sei ossessiato Dei giochi Sì Bellissimo Direi che questo commento Chiuso alla perfezione Signore e signori Abbiamo dei fan Di Gloomeven O Frosteven O Jobs of the Lion Qua in chat Perché potrebbe esserci Una notizia Che vi potrebbe interessare Perché ripartirà Tra un po' Non ho ben capito Quando Comunque una nuova campagna Di finanziamento online Dedicata all'universo Di Di Gloomeven Ed è stato annunciato Un Alberto alza la mano Io Non alzo la mano Perché A me non è piaciuto Gloomeven Ma comunque Uscirà Nell'universo Di Gloomeven Un nuovo prodotto Ovvero Uscirà Un gioco di ruolo Un sistema di gioco Di ruolo Dedicato proprio All'universo Di Gloomeven Quindi con la Possibilità Con la possibilità Grazie Angelo Buongiorno maestro Grazie mille Per aver Rinnovato Per 22 mesi Il suo abbonamento Grazie mille Quasi due anni Maestro Che ci tiene compagnia E la cosa non può Che renderci Che renderci Onorati E dicevo per l'appunto Uscirà Questo nuovo gioco Da tavolo Gioco di ruolo Scusate Che adatterà Il gioco di ruolo E le sue meccaniche All'interno di Un Allora Esce il gioco di ruolo Che adatta le meccaniche Del gioco da tavolo A per l'appunto Un sistema di gioco di ruolo Ci sarà come vi dicevo Questa campagna Su Baker Kid Una roba del genere Comunque Finanziamento online Che partirà poi nel 2023 All'interno della quale Tra le varie Probabilmente la ristampa Di Frosthaven E altre cose Ci sarà anche la possibilità Di sbloccare Pleggiare In qualche modo Non ho ben capito Questo nuovo gioco di ruolo Per l'appunto Ambientato All'interno Dell'universo Dell'universo Di Gloomhaven Ci sarà Probabilmente Un sistema di combattimento Da come ho capito Simile Che sfrutta in parte Proprio la meccanica Anche di Che già è quella Di Gloomhaven Del gioco da tavolo Ma con Praticamente tutto il Sistema Ci sarà proprio Il manuale Con alcune Indicazioni Per i master Per creare Campagne Avventure Missioni All'interno Proprio dell'universo Di Gloomhaven Esce un gioco da tavolo Che adatta Le sue meccaniche A un gioco da ruolo Che ripercorre Il gioco da tavolo Come da ruolo Ma sul tavolo Esatto Ho fatto un casino Incredibile Ma spero In qualche modo Di essermi Molto malamente Molto malamente Spiegato E Che praticamente Ok Si sarà anche Compatibile Stavo leggendo adesso Sieme a voi Praticamente Questo toolkit Che ti Che ti viene Fornito In modo Che tu possa Essere in grado Di ideare E creare Le tue avventure Si legherà Sia All'universo Appunto Di Gloomhaven Che di Frosthaven Che di Joes of the Lion Comunque Saranno poi Ambientabili Ovunque Nelle Nelle vostre partite Nei vostri Desideri Più reconditi Se come A moltissimi Piace Questo Questo gioco Di grandissimissimo Successo Ma andiamo ancora avanti Perché nel titolo Io vi ho Parlato di Giochi da tavolo In televisione E questo frame Che ho preso io Fatto proprio Uno screenshot Perché si trova online La puntata Di questa Trasmissione tedesca Condotta da Quella signora in rosa Che altro non è che Michel Unziker Tra l'altro Perché Plot twistone Assieme a quel signore Vestito in questo color Granata Porpora E' già passata E' già passata La bomba promessa L'altra volta Dopo ti Finiamo qua E poi ti faccio rivedere Che cos'era Quindi rimani Rimani con noi Dicevo questa Trasmissione tedesca Che altro non è Ciao Manuela Che altro non è Che il nostro Vecchissimo Scommettiamo che Ok In cui Presentato per l'appunto Dalla nostra Michel Unziker Anche il nostro Michel Unziker E questo Presentatore Tedesco Famosissimo Allo stoppino Come la bomba Ed è una bomba Giusto per quello Davanti a Un pubblico In studio Piccolissimo Secondo me Questa trasmissione Che si chiama Scommettiamo che Praticamente Viettenbas Viettenbas Insomma Una roba Una roba Che tradotto E' il nostro Scommettiamo che C'è stata una prova Di questo ragazzo Tutta dedicata Ai giochi da tavolo Ai giochi da tavolo Vincitori Dello Spiel Desiares E la scommessa Che ha fatto Sto ragazzo Su Riconoscere I giochi Finalisti Dello Spiel Desiares E Quella di Preso Un gioco Finalista Cioè Vincitore Dello Spiel A caso Gli viene Rovesciato Davanti Il contenuto Della scatola E lui Che ha su Sti occhiali Dove non vede Niente Senza toccare Solo Sentendo Solo sentendo Il rumore Che fanno I componenti Sversati Così Tutti davanti Tutti Inchiusi In sto pezzo Di plexiglass Per evitare che Vadano ovunque E lui Ti sa dire Che gioco è Ed è stato Assurdo Io mi sono Visto Tutta quanta La performance Tutta quanta Perché Era Allucinante Questo tipo E su Cinque Quattro Gli ha beccati E tra l'altro Nota di colore E che mi ha fatto dire Ullala Chi sceglieva I finalisti A caso Perché erano Tutti quanti dietro Di ognuno Ce n'era due copie Perché lui poteva A chiedere il riascolto Una volta A passare E scegliere Quale gioco Dare E far Così a caso Quindi per Randomizzare la scelta C'era niente Un po' di meno Che Robby Williams E proprio lui Signore e signori Robby Williams Ospite di Scommettiamo Chi è Germania Edition Con Michelunzi Che re Signor Mario Rossi Tedesco Che presentano La trasmissione Robby Vai Prendi un gioco A caso Lui lo prende Glielo passa All'altro L'altro Glielo sversa Davanti E l'altro E' un po' di meno 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 Queer call E' un po' di meno E' un po' di meno E' un po' di meno Capirlo Che era Queer call C'è Pauroso Pauroso Esatto Robby Williams Totalmente a caso In questa situazione Sono d'accordo con te Ma poco di fondo La sera Con gli unmatch Ma è un casino Riconoscerli Cioè In quel caso Cioè Prendiamo di nuovo Il meme Della testa Che scoppia Esatto No no Però Ciao Ciao Simo Ciao No ma Davvero Cioè Mi ha Allucinante No perché E' pazzesco Come Codename Anche hanno Hanno preso E Glielo Nomencodice Glielo Ribaltano davanti E lui proprio Lo vedi E non inizia Dice Ah Sì no Qua palesemente Sono solo carte Perché il rumore Non si è sentito Qui la Elena Fa Però ho sentito Una cosa di plastica L'unico gioco Che ha l'unico Componente E la clessidrati Nomencodice Ed era Nomencodice Cioè Pazzesco Pazzesco Totale Proprio E Comunque Tanto di cappello Bravissimo E poi c'è stato anche il momento finale In cui Ah ma quanti giochi Ah ma ti piacciono i giochi Ma quale consiglieresti Al nostro pubblico Lui ha consigliato Carcassonne Tra i vari finalisti Dicendo che uno dei suoi giochi preferiti E Bellissimo comunque Momento di Intrattenimento Puro Con i giochi Cioè con protagonista I giochi Di per sé Dove da un lato Ok Cioè Questo qua ne esce Come uno Non solo infognato Di più Però Anche a scommettiamo che C'erano Io mi ricordo Ero bambino Ma chi ha qualche anno in più Come me Se lo ricorderà C'erano dei personaggi Anche Oltre che dei veri talenti Legati al Al mondo Di Di qualsiasi cosa Quindi da un lato Bellissimo Bellissimo Il fatto che Abbiano Messo il gioco Protagonista Assieme a questo giocatore In un contesto Iper seguito Cioè guardate di nuovo Un attimo Quanta gente c'era Solo lì in studio Io mi aspetto Cioè questa qua è la trasmissione Di prima serata Del canale Del primo canale Di tedesco Cioè Anche perché Se c'hai Robby Williams Che ti fa l'ospitata Così random Durante Lo scommettiamo che Per quanto Robby Williams Possano essere forse Più sulla cresta dell'onda Come quando Faceva i Take That E E E basta Perché non mi viene in mente Una canzone dei Take That In questo momento Ma mi vengono tutte I Backstreet Boys E vi chiedo scusa Però dicevo Cioè Bellissimo il fatto che Questa paretona Di giochi da tavolo Il fatto che Fanno vedere Come sono fatti E c'è C'è modo Ancora di Di poterlo Di poterlo appunto Portare Portare In prima serata In televisione Per carità È in Germania Lo Spiel des Jahres Sappiamo che in Germania È comunque una cosa Nota Ai più Magari non a Robby Williams Ma sicuramente La Hunziker E l'altro presentatore Sicuramente Con questa giacca Obrobrioso Secondo me Secondo me Obrobriosa E Probabilmente Robby Williams Ha una casa Piena di giochi da tavolo E lancia tutti Sui suoi tavoli Ma Fun fact Centra niente Ma ho visto L'altro giorno Un'intervista A Andrew Garfield Il Spider-Man Di The Amazing Spider-Man Ok Quindi della Diciamo Del primo reboot Di Spider-Man Che era stato fatto Dopo quello di Tobey Maguire È arrivato quello Di Andrew Garfield Quello che ha Dissolato Tic Tic Boom Se avete presente Vabbè Attore Molto bravo Secondo me Che Gli hanno fatto St'intervista Alle Cinque cose Che ti porteresti Sull'isola deserta Non era proprio Messa in questi termini Ma le cinque cose Ecco Irrinunciabili Nella tua vita Lui tra le cinque cose Irrinunciabili Ha messo Nome in codice Un gioco da tavolo Quindi Tanto di cappello Anche per il signor Andrew Garfield Traduzione Nostalgia dell'infanzia Col grande frizzi E tanta Tanta roba Che ci vuole Scusa Facciamo la sfida Al furgone d'oro Esatto Potremmo Potremmo fare Assolutamente Lo potremmo fare Assolutamente E E quindi Dietro Mi facciamo un secco piacere Ma Passiamo Dalla televisione Al cinema Perché Terraforming Mars Di Jacob Christelius Altro gioco Ha avuto un sacco di successo Ha avuto un sacco di espansioni Ha avuto I suoi spin off Abbiamo visto Vabbè Ares Expedition Di carte Ha avuto il suo spin off Di dadi Ne abbiamo parlato Anche in Next Tempo fa Insomma Un titolo Sicuramente anche questo Di grande successo Che piace A un sacco di appassionati Nome in codice Su un'isola deserta La vedo due ore Giusto Elfio Ma infatti non era proprio Sull'isola deserta Era più Le cose a cui non puoi rinunciare Era una roba del genere E in fatto sta Terraforming Mars Non solo Grande successo Nel mondo dei giochi Ma è stato acquistato La licenza Di poter fare Terraforming Mars Farlo diventare Un film Film Di cui per adesso Non si sa Né cast Né date di uscita Né trama Né niente Si sa soltanto Che una casa Di produzione Che si chiama Vattela ricordà Si chiama Esattamente Vattela ricordà Ehm Na 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 Allora Una casa Di produzione Che si chiama Ehm La Cobalt Knight Ok Quindi Il Cavaliere Di Cobalto Ehm Che Litigava Col Cavaliere Con i piedi Di Balsa Tra l'altro E salutiamoli tutti e due Ehm Hanno Acquistato I diritti Per poter fare Un film Di Terraforming Mars E che sarà Un film Che baserà Il suo fatto Di dover sviluppare Una colonia Su Marte Tra Lotta di classe Colonialismo E collasso Ecologico Allora Per adesso Si sa Solo questa roba qua Io quando ho sentito Voglio fare il film Di Terraforming Mars Boom Mi è venuto in mente The Martian Sopravvissuto Con Mad Demon Che salutiamo Perché anche lui Grande appassionato Di giochi da tavolo Magari no Ma noi facciamo Pinta di si E Figo Figo Però Ora Ok Da come poi ho letto Sto tizio Che ha fondato Uno dei due soci Praticamente Di questa Cobalt Knight E un Ha già Una casa Di produzione Di videogame Quindi ci sta Che magari Sia un po' più Già nel mondo Nerd Diciamo E quindi Conosca Comunque Terraforming Mars Ma l'idea di dire Acquisiamo I diritti Per fare un gioco Da tavolo Non ambientato Randomicamente Su Marte Ma basato Sul gioco Da tavolo E la prima volta Che il nostro Media Diventa Qualcos'altro Perché avere L'adattamento Nel nostro Media Nel gioco Da tavolo Dell'universo Di Star Wars Dell'universo Di Harry Potter Dell'universo Di Squid Game Che ne so Che è uscito E la regina Degli scacchi E i Goonies E lo squalo E ritorno al futuro Ok E' un'operazione A cui siamo molto abituati Ma questa è l'operazione Letteralmente opposta Poi chissà cosa sarà Poi magari Non boh Vai a sapere Cioè magari Poi non sarà niente Magari Sarà una roba Rivoluzionaria Non ne ho la più pallida idea Magari sarà un film Di serie Z Che uscirà solo In VHS Nel 2050 Però L'idea Come prima L'idea Di avere In prima serata Su La Rai 1 Tedesca O sul canale 5 Tedesco I giochi da tavolo Come protagonisti Di un momento Di intrattenimento Qua cacchio Si rende un gioco Da tavolo In una cross Medialità Assurda Il protagonista Di un prodotto Di intrattenimento A sua volta Dove il gioco Può quindi Finalmente Aspirare Ad essere visto Come qualcosa di più Un mio opera d'arte A 360 gradi E questo è Tanta roba E questa è tanta roba Buongiorno al puzzillo Che nomina Battleship Vero Vero Alzo le mani Alzo le mani Perché esiste Il film Battleship Ora me l'hai fatto Mi hai acceso la lapadina Tratto da Battaglia navale Che a tutti gli effetti È un gioco da tavolo Quindi Giustissimo Sacro Sanctus Si stanno con un sacco di film Magari spin off Dalle esperienze Di escape room Piuttosto che Che solitamente sono Dei pseudo horror Piuttosto che Ma Diciamo che appunto Nei giochi da tavolo Moderni Anche se io odio Questa terminologia Perché la trovo Mi sa di un vecchio Chiamarli moderni La roba è lì Moderne Cioè sembra mio nonno Ciao nonno Non lo so Comunque Per capirci Ci sta Solo io mi sto immaginando La noia di un film Basato su Carcassonne Ma pensa invece Un fantasy Dove tu hai Questi Cavalieri Questi ladri E i contadini Con le loro storie D'amore E i loro drammi Interiori Le loro storie Teen Perché poi ci stanno Sempre bene Come insegna Boris Nella sua quarta stagione In questo mondo Dove Di punto in bianco Vedi cadere Dall'alto Un pezzo Di una città Boom E ti trovi Un pezzo Di città nuovo Dove dentro C'è Un cavaliere Gigantesco Perché lo mino Da due E devi andarlo A combattere Perché ti ha usurpato La tua città E Potrebbe essere Fighissimo Cioè tu va a sapere Cosa passa Nelle menti Degli sceneggiatori E Adesso Un gran filmone Con Tim Curry E Un film deterministico Senza colpi di scena E twist La tavola Uja È definita Un gioco da tavolo Un bel film su Arnak Allora L'Ali Kiki Mi viene in mente Il remake Che avevamo fatto Che poi non era un remake Ma era in realtà Un sequel Di Jumanji Il film Quello con Robin Williams Quello che poi Avevano rifatto con The Rock Potrebbe comunque Ricordare vagamente L'universo Anche di Di Arnak E Contadini che dormono Esatto Che sono stanchi Si coricano Conoltre uscirebbe Una figata Quello Quello senza Vero di dubbio Però ragazzi Crossmedialità Oggi ci stava Un sacco La crossmedialità Tra cinema Tra televisione E ricordiamocelo Oltre al calendario De l'avento La candela La candela Era questo che ti è riperso La candela Che sa di gioco nuovo Che per 50-60 ore Brucia E ti invade la stanza Di Dejeu Profumo di gioco Che sa di Carta Cartone E inchiostro Eccezionale La next Medialità Esatto Anche perché pure Terraforming Mars Tutta vita In effetti In effetti Puzzillo Cioè tipo Carcassonno Già Solo per l'ambientazione Che gli puoi buttare Dentro fantasy Ma perché piglia L'espansione 3 La principessa Il drago Più fantasy Di così Boh Cioè siamo a posto E E invece Appunto Terraforming Anche secondo me A me come gioco Non fa infazziare Terraforming Mars Anzi diciamo Non mi piace Lo trovo noiosissimo Anch'io E quindi Sì effettivamente Però Però dai Ci sta la conquista Allo spazio Poi il problema Appunto la terra Che ormai è diventata Invivibile Dobbiamo andare a colonizzare Marte Ci sta Ci sta Nell'ottica Del Di un'ipotetica Trama Di un film Se da poco Un gioco Flow di quest'anno Funziona lo stesso Facci sapere Prova E facci sapere E Ciao di Edjog Ciao ben arrivato Esatto Carcassonne Che come film Con tutte le espansioni Ci sta una stagione Più stagioni Con più episodi Assolutamente Vendiamo l'idea Netflix O Prime Video Basta Diventiamo ricchi Boh Boh Abbiamo deciso così Ma signore e signori Beh 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 Passiamo a parlare Di giochi Perché abbiamo Un sacco di annunci Di uscite Anche per il mercato italiano Perché è arrivato Namiji Finalmente Si è fatto aspettare Qualcosa come 18 mesi Ma finalmente È arrivato Namiji Da Fanforge In Francia Il nuovo gioco Di Antoine Bauza Che è il Ciao Sasha Scusa ho perso il tuo saluto Scusami 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 Ciao Sasha Un abbraccione Dicevo Spin off Sequel Spirituale Di Tokaido Tokaido Mai capito come si pronuncia Tokaido Credo Se in Tokaido Percorrevamo per appunto La via Del La seta E del mare Del mare Delle spezie Insomma La via che collega Tokaido A Okinawa In Namiji Percorreremo La rotta navale Che si trova a sud Di Tokaido Per l'appunto Con le nostre barchette Ci muoveremo Ci soffermeremo I vari ponti Dove potremo Rifocillarci Oppure Acquistare oggetti Utili Per la nostra pesca E andremo a pescare Potremo fare Pesca appunto Con l'amo Potremo pescare Con la rete Potremo andare A mettere Le nostre nasse Dove pescare Crostaccia E fare E fare punti Gioco con delle Illustrazioni Fantastiche Infatti come dice Marco È troppo bello Da vedere Quanti giochi Fallanno Bauza Penso un sacco E mi credo Un sacco Un autore Molto prolifico Quelle che vedete qua Sono immagini Della versione Kickstarter Non di quella retail Che trovate Acquistandolo O prendendolo Anche su Dungeon Dice Credo che Digitando gioco Forse vi arriva Direttamente Il comando Per quello Esatto Sì Per Namiji La differenza È che non avete Vedete Lì in basso a destra Le barchette In 3D Non le avete In plastica Ognuna Diversa dall'altra Ma le avete In legno Quella è la differenza Sostanziale Come anche Quelle barchette Di carta Che vedete Al centro Del tabellone Bianco Vedete Della roba bianca Secondo me Solo là Al centro Sono Nella versione Kickstarter Sono delle Barchette Di carta Stampate in 3D In plastica Che nel gioco Al retail Invece Sono dei Tondini In cartone Quindi Sappiatelo Non arrabbiatevi Poi con me Se ve lo comprate Dite Ma non c'erano Le barche No Non c'erano Le barche Perché voi Comprate La versione Al retail Queste erano Delle esclusive Del kickstarter Ma online Ho trovato Solo immagini Del kickstarter Quindi portate pazienza Ma che cosa faremo Noi Navigheremo Come vi dicevo Per l'appunto Lungo questa rotta E esattamente Come in Tokaido Se lo conoscete Muoverà sempre Il giocatore Che si trova Più indietro Lungo questa rotta E andrà ad occupare La casella Che vuole Per fare L'azione corrispondente Dopodiché Si muoveranno Tutti quanti gli altri E avanti così Le azioni Ci permetteranno Di pescare E quando pescheremo Metteremo i pesci Davanti a noi Sulla nostra plancia Facendo punti Se in riga e colonna Avremo pesci Dello stesso colore O della stessa forma Della stessa tipologia Oppure pescheremo Per appunto I crostacei Dove c'è una meccanica Di push or luck Posso pescarne fino a 5 Ma se pesco Quindi magari mi fermo Appena ne pesco 1 Continuo a rischio ancora Eccetera eccetera Ci vedremo i panorami Con i delfini Le orche I polipi E più volte Ci fermeremo Ad osservare Questi animali marini Maggiori saranno I punteggi Che otterremo Grazie a loro E ancora Ci sarà la possibilità Di pescare Le carte roccia sacra Che ci danno Degli obiettivi Ovvero delle cose aggiuntive Che ci daranno punti Alla fine della partita Ogni volta Poiché raggiungeremo Uno dei punti Lungo il percorso Ci dovremo fermare E lì prenderemo Delle carte Che ci possono dare Dei bonus Nel corso della partita O punti secchi Subito Pochi sporchi punti Subito Oppure delle abilità Che quando noi ci fermiamo A fare determinate azioni Abbiamo dei bonus Per l'appunto Allo svolgimento Di queste azioni Mi sa di gioco Molto zen Assolutamente Sì La lichichi Anche Questo qua Per l'appunto Il paesaggio Della nostra balena Completato L'abbiamo L'abbiamo vista Tutta Dicevo Sicuramente È un gioco Molto zen Perché È un gioco Secondo me Ottimo Da fare In famiglia Nel vero senso Della parola Non è nipote Assieme È un gioco Molto semplice È molto chiaro Che cosa fare Tutto quello che fai Più o meno Fa punti E quindi Lo giochi proprio In rilassatezza Assolutamente Anche sorseggiando Una buona tazza Di tè verde Fumante Mangiando con le bacchette Il tè Così ci metti tantissimo Insomma È molto rilassante A questo punto di vista Ad esempio Questo qua è uno Ora qua è in inglese Ma ovviamente Esiste L'edizione che acquistate Anche su Dungeon Dice È totalmente In italiano Dicevo Se hai Punto Le Se soddisferai Le carte Delle rocce sacre Come queste Saranno punti aggiuntivi Alla fine della partita Che quindi Prese all'inizio Indirizzano un po' di più Sulla strategia Che vorrei seguire Presa alla fine Sono un pochino Un azzardo Perché magari Non hai poi più tempo Sufficiente Per riuscire a fare tutto E se in Tokaido La particolarità era Che ogni personaggio Partiva con un'abilità Diversa E quindi Già un indirizzo Di cosa ti conveniva fare Nel corso della partita Per sfruttare al meglio Il tuo potere Qua non ce l'hai Ma lo otterrai Nel corso della partita Diventando un pescatore Via via Sempre più potente Sempre più promettente Man mano Che la partita avanzerà Il gioco è molto veloce Queste qua sono Però appunto Altre carte Di quelle che O ci danno punti secchi Il cibo Oppure dei bonus Del modificatore Alle azioni Nel corso Della nostra Scusate Ho sentito dei rumori strani Nel corso Della nostra partita Ma Ancora di più In due giocatori Ciao Melks Ciao Ti sei perso un sacco Di cose bellissime Recuperarlo perché abbiamo riso Come dei matti In più dicevo In due giocatori Si gestisce un terzo Giocatore fantasma Che a leggerlo Sulla carta Non mi ispirava Ganchè In realtà Giocato Perché vale Lo abbiamo già È una settimana Che lo stiamo giocando Ormai In amici In due giocatori Diventa Molto molto più Cattivo e interattivo Il gioco Perché Chi sarà più indietro Muoverà per primo Ma chi sarà più avanti Sceglierà dove far andare Il giocatore neutrale Che non farà azioni Ma andrà a bloccare Degli spazi E siccome gli spazi Sono la metà Giocando in due o tre Giocatori Piazzarlo nel posto Dove rompe di più Le scatole all'altro È sempre una soluzione Ottimale E puoi veramente dare Molto molto fastidio Agli altri giocatori Buongiorno al Dungeon Store Di Bologna Ben arrivati Buon Buon salve Buon salve E quindi Namiji disponibile Lo trovate Lo potete prendere E vi arriverà In 24 ore Poco di più Visto che Ormai penso che tutti quanti Non vorrei dire stupidaggini Nel caso chiedo scusa Al magazzino Ma penso che ormai Tutti gli ordini del Black Friday Siano stati evasi Io i miei li ho ricevuti tutti Quindi Dovrebbero Credo che siano stati Ormai quasi tutti evasi E quindi Le spedizioni riprenderanno Nella loro solita forma Questi è Namiji Sì Questi è Namiji Melks Dicevo Le spedizioni Potranno ripartire Sempre tenendo presente Che se più ci si avvicina Il Natale Peggio è Per la situazione Corrieri Che come tutti quanti Ben sappiamo Ogni anno Impazza Sotto Natale Grazie mille Elfio Intanto per esserti abbonato Con Prime E intanto ben ritrovato Anche a Board Game 101 Ben arrivato Ciao Fabio Grazie mille Per essere riuscito a passare Elfio mi raccomando Potrai riscattare Se vorrai Varie Varie Promo Grazie al tuo abbonamento Prime Tra cui un mese di abbonamento VIP Su DungeonDice.it Dove acquistare Tutti quanti i tuoi giochi Con scontistiche Pottesche Spese di spedizioni Abbassatissime Grazie proprio al fatto Che potrai essere VIP Anche tu Patatina mia La mia fantasia E salutiamo Olmo Mi fa Uplay Hanno per l'appunto Hanno per l'appunto Ma con delle storie Con quella tal persona Con quella tal persona Con quel tal animale Con quella tal cosa lì Bravo Giovanni Sta spoilerando Annunci che arriveranno Tra poco E noi andremo Però appunto A interagire con loro Ci daranno informazioni Potremo spostarci In altri luoghi Ci potranno dare Delle Ci potranno dare Delle carte Aggiuntive Magari degli oggetti Con i quali risolvere Il nostro mistero Anche qua Ci saranno quindi Vari personaggi Vari luoghi Varie cose Che a seconda Della missione Che giocheremo Ci forniranno Indicazioni diverse Questo drago Questo drago Con gli occhiali Magari in un'avventura Può essere Il preside Della scuola Dei draghi In un'altra avventura Magari è il Macellaio Sotto casa Ok Però sarà sempre La stessa carta Ma con il QR Che ti rimanda A seconda dell'avventura Che stai giocando Ha delle piste Diverse Chronicles of Crime Aveva anche La scena del crimine Anche qui Sì anche qui ci sarà Anche qua ci saranno I vari luoghi Ci saranno I vari posti Dove andare A distribuire Le nostre carte E anche qua ci sarà La scena del crimine Da vedere Sempre in realtà aumentata Si chiama Giusto penso Quella lì Che mi giro Attorno alla stanza Così col cellulare E in quadro Vedo cose nella stanza Il gioco è dato dai sette anni Come vi dicevo Noi non abbiamo ancora avuto Modo di provarlo Per quanto ce l'abbiamo Ce l'abbiamo da un po' Lo proveremo sicuramente Però Stiamo molto curiosi Chiaramente È un gioco pensato Per un target di bambini Secondo me Per quell'età Comunque Assolutamente Assolutissimamente Ci sta E anche la rigiocabilità È data dal fatto che Se già Tanto mi da tanto Come già era Anche per Chronicles of Crime Magari rilasceranno Semplicemente Casi aggiuntivi Da acquistare Direttamente In app Per avere Nuove avventure Da poter giocare Sempre con gli stessi materiali Sette e più Sette e più È già disponibile Lali Kiki È già disponibile Lo trovi anche su Dungeon Dice Guarda Te lo confermo Ma sono sicuro Che sia disponibile Kids Chronicles Caccia delle pietre lunari 21,99€ Disponibile Sì sì Assolutamente E quindi Lo trovi Lo trovi anche su DungeonDice.it Quindi ti lascio L'indirizzo del sito E quindi Lo trovi Tranquillamente Eccoci qua E Dopo Questa Caccia delle pietre lunari E tra l'altro Non è l'unico Titolo annunciato Che sfrutta Sempre questa Integrazione Con i dispositivi Mobili Eccetera eccetera Da Lucky Duck Per bambini L'altro però Uscirà nel prossimo anno E Non vi Non vi posso ancora dire niente Ma vi posso Così Ok Ne uscirà un altro Sempre per bambini Sei anni in su Questa volta Sempre da usare l'app Ma Gioco molto divertente Fremetico Andiamo avanti Perché vi ricordate Che io ho parlato Del gioco di Scooby Doo Che siete tutti quanti impazziti Un paio di settimane fa Quando vi ho detto È stato annunciato Arriverà Collaboreremo Ci metteremo nei panni Di Velma Shaggy Scooby E tutti quanti gli amici Della Della Scooby Doo Gang Che come vi avevo detto Già due settimane fa Io non ho praticamente mai visto Quindi non mi ricordo Il nome dell'agenzia Dei misteri Eccetera eccetera È disponibile Abbiamo una data D'uscita Signore e signori Hanno rilasciato la data Esce il 16 di dicembre Preordinabile anche questo Già su Dungeon Dice Se volete Il sito ce l'avete sempre lì Solo da cliccare Il 16 di dicembre Arriva Se lo preordinate Il 16 ce l'avete A casina Con voi Pronto per essere Impacchettato E messo sotto l'albero Oppure spacchettato Giocato richiuso Una spruzzata Di candela Di candela All'odore di Gioco nuovo Richiuso Tac E via Praticamente ora Esatto No Non sono colorati Gli omini Anche qua Era un'esclusiva Del kickstarter Quella di avere le minia Già colorate Non siamo già Al 2023 Manca poco Manca poco Però Fabio Le miniature Non sono colorate Nella versione Retail Del gioco Che è quella Che potete acquistare Preordinare Su DungeonDice.it Ma poco importa Quello che conta Al di là Della Pittura o meno Delle miniature La validità del gioco Che da quello che ho letto Da quello che ho visto Mi ha ispirato un sacco Io una copia Già l'ho prenotata E quindi Perché mi Mi intriga Mi intriga un sacco Mi sembra molto Molto figo E mi faceva piacere Riuscire ad averlo Per Natale Così come anche sempre Il 16 Arriverà Anche l'Unitunes E anche questo Lo potete Preordinare E anche questo Io già l'ho preordinato Perché in questo Looney Toons Manheim Dove esce questa scatola Ed esce già anche L'espansione Delle nuove miniature Quella con Titti Silvestro Peppe Le Pew E la gattina L'amorosa di Pepe Le Pew Pepe La Puzzola E' un gioco nel quale Noi ci scazzottiamo Utilizzando i personaggi Dell'universo Della Looney Toons E io quando ero piccolino Quando facevo le elementari Io ero molto più grande fan Dei Looney Toons Rispetto al Topolino in company Se tutti i miei amici I miei compagni Leggevano Topolino Io leggevo Bugs Bunny Perché io facevo La tipico Già in terzo elementare Io ero abbonato Alla rivista Di Bugs Bunny Che era identica A Topolino Perché era anche gialla Erano uguali Ma era nata In quegli anni lì Io mi ricordo La rivista di Topolino Di Bugs Bunny E boh Quanto sta Mio papà Ha probabilmente detto No non abbonarti a Topolino Abbonati a quella Voleva che fosse un Boh Che ne so Uno lì Come si dice Quelli lì Tutti strani Lì Quelli Vabbè Non mi viene dal termine tecnico Della cosa Comunque Cosa sono queste cose bellissime Emanuela Ti ripersa la Ti ripersa la puntata Allora in cui ne avevamo parlato Questo Looney Tunes Mannheim Mai 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 Qualcosa così E un sistema di gioco Questo gioco Mai Haim Una sorta di match Looney Tunes Nel senso che ci muoveremo In queste varie zone A seconda della zona in cui saremo Avremo la possibilità di attivare Determinate abilità Che se entrambe le nostre miniature Si troveranno nella stessa zona Saranno più potenti E poi lanciando dei dadi Con dei modificatori Dati dagli oggetti Che abbiamo equipaggiati Facciamo Meniamo gli altri Fondamentalmente E vinciamo Scazzottandoci con gli altri C'è questa scatola Con Taddeo Bugs Bunny Daffy Duck E Taz Poi c'è l'altra scatola Con Titti Silvestro E Pepe La Puzzola E la gattina La fidanzata O meglio Quella di cui è innamorato Pepe La Puzzola E non solo Perché c'è anche Non vi ho messo l'immagine Ma La versione Con i Teen Titans E quindi Alternativo Probabilmente Grazie a Ubakemono Non era disadattato Però Grazie Grazie anche a Lupigio Per il tentativo E quindi anche questo qua Arriva al 16 E anche questo qua Ve lo potete già Ve lo potete già Preordinare Sì fare l'alternativo The Hedgehog C'era arrivato C'era arrivato subito E comunque sì Quindi anche questo Io me lo sono già preso Perché Tanta Tanta roba Tanta roba Secondo me E poi Passiamo al 2023 Per davvero Perché Cranio Creations Ha annunciato Che localizzerà Nel 2023 Terra Nova Anche di questo Ne avevamo parlato Tempo fa E Terra Nova E una versione Più light Di Terra Mistica Gioco di Di E E Così Comunque l'aveva sempre portato Cranio Creations In Italia Gioco Bellissimo Per quanto mi riguarda Molto Impegnativo Nel quale ci troveremo A terraformare Vari territori Ognuno con delle abilità Specifiche Adatte dalla propria razza 14 razze All'interno Della scatola Ognuna diversa Dalle altre Ed è un gioco Di costruzione Costruzione Rete Abilità Per l'appunto Asimmetriche Tra i giocatori Punti azione Da dover spendere Nel corso della nostra partita E gestione risorse In quanto avremo sia i lavoratori Che il denaro In questo Terra Nova Che succede? Succede che hanno Asciugato Molti elementi Rendendolo Sicuramente più semplice Più immediato Più affrontabile Ma Secondo me Non è che sia cambiato Poi così tanto Da renderlo Comunque un gioco Family Ambientato all'interno Di quell'universo E' sempre un gioco Per giocatori Esperti Per quanto mi riguarda Ma Asciugato moltissimo Infatti Spariscono Per esempio Il tracciato dei culti E soprattutto Sparisce La doppia risorsa La doppia valuta Danari E lavoratori In quanto qua Avremo soltanto Danari Da dover spendere Per compiere Le nostre azioni Sia che sia Il terraformare Quindi Il trasformare Territori adiacenti Nel nostro interritorio Del nostro colore Sia che per Costruire Le nostre Le nostre Abitazioni Poi i nostri empori Poi le nostre fortezze Perché mancando i culti Manca anche tutta la parte Di templi e santuari Con relativi bonus E relativi avanzamenti Sul tracciato dei culti Potremo costruire In realtà due fortezze Che ci daranno Le due abilità Una di fazione Una uguale Per tutti quanti Come era per il santuario In terra mistica Di poter fondare le città Utilizzando solo tre esagoni Anziché quattro Le plance sono molto simili Perché in realtà Sono molto simili Anche proprio Tutti quanti Gli elementi di gioco Le azioni fattibili Saranno sempre le stesse Ci saranno sempre Gli stessi concetti Di distanza Di range Entro cui costruire Dato dalla navigazione Ci sarà sempre Il potere Che gira Nelle tre pozze Che otterremo sempre Quando gli altri Costruiranno Accanto a noi Eccetera eccetera Insomma Tanti tanti elementi Simili Diciamo E praticamente Lo stesso gioco Cui hanno tirato via Dei pezzi Allora A me piace tantissimissimo Terra mistica Ma proprio tantissimo E Diciamo che A me personalmente Alberto L'idea L'avevo già detto Quando avevamo visto Le prime informazioni Su Terra Nova Senza poi sapere bene Cosa andasse a cambiare Nel gioco Ora che lo si sa Dico Sì Ci sta anche I poteri Delle fazioni Per quanto hanno Dei nomi diversi Perché tipo Ci sono le fate Che però Hanno lo stesso potere Delle streghe Ci sono Quelli che erano I nomadi Che qua si chiamano In un altro modo Ma che hanno Lo stesso identico Potere dei nomadi Ovvero di partire Con tre casette Allora Mi piace da un lato L'idea che abbiano Asciugato un po' Ciao Dance Floor Sì sì Sei assolutamente in tempo Il prossimo anno C'è la Terra Misticanza Che porterà a un nuovo livello Il concetto di insalata Di punti Eccoti Accodentato lupigio Ho fatto una fantastica battuta Dovevo trovare Non mi raccomando Non ero pronto Dicevo A me piace da impazzire Terra Mistica Ci sta L'ottica magari Di renderlo Più fruibile E ok Asciugarlo E ok Ci sta Hanno sicuramente Tolto quella Che era la parte Forse meno Già Meno apprezzata Probabilmente Di Terra Mistica Quella legata ai culti Allo stesso tempo Mi viene Un po' Non lo so Sarà che Vi ho già anche spoilerato Il prossimo Sarà che appunto Io sono così tanto Legato a Terra Mistica Da dire Forse non serviva Forse non serviva Però probabilmente Se l'hanno fatto E se hanno scelto Cragno di localizzarlo Probabilmente Una stupida L'avranno fatta Sicuramente Lo giocherò Se ne avrò l'occasione Perché assolutamente Sì Avendo già Terra Mistica Terra Nova Mi sembra Un po' Meno Un pelino Meno Esatto E no Ma di qui Si chiameranno I Dick Dick Grande Marco Non posso farvi I badum Ogni commento Ma questo te lo faccio Perché te lo meriti Questa sarà La più grande Differenza Sì Sicuramente Per giocatori Meno esperti È più avvicinabile Assolutamente Sì Assolutamente Sì Chiaro Che Per me Risulta Fare un passetto Indietro Per chi non l'ha mai giocato Ci sta a partire Da questo Per poi arrivare Se si avrà voglia A Terra Mistica Se se ne sentirà il bisogno Magari non se lo sentirà mai E andrà benissimo Lo stesso Perché ricordiamolo Non è che ci siano Dei percorsi Da dover fare Per diventare giocatori Chi se ne fotte Ognuno gioca A quello che preferisce E che più lo diverte Ma sempre Cranio Ha anche Annunciato Che localizzerà Autobahn Anche di questo Già ne avevamo Parlato Perché era uno Tra i titoli Se vi ricordate Pre-ESM Era uno Tra i titoli Più attesi Di ESM Che poi In realtà Durante Al post-ESM Si era rivelato Forse non essere Poi interessato In realtà così tanto Ma anche di questo Non avevano fatto Un kickstarter Mi sembra O comunque Una sorta di Crowdfunding Dal basso Ciao Enio Ciao ben arrivato Arriverà in italiano Un gioco di Nestor e Mangone Con l'ambientazione Tedesca Più tedesca Che possa esistere Nestor e Mangone Fabio Lopiano Perché noi costruiamo Le autostrade In Germania C'è una roba Che più tedesca Di così non può essere Tra l'altro Lo facciamo Nell'arco di 50 anni Passando anche Dal crollo Del muro di Berlino E quindi ci sarà Tutta una zona Della mappa Che non è accessibile Fino a un certo punto E Dico bene Che è un kickstarter Grazie Alex Nel gioco Noi andremo a Sviluppare Via via Queste tratte Collegando varie città Collegando varie rotte E ottenendo vari bonus Legati anche In un gioco Con i nostri Ingegneri Ti ho già spoilerato Metà gioco Ma pensate A un certo punto C'è un muro che crolla Nel gioco però Noi andremo a fare Varie azioni Legate a varie zone Della mappa Andando a giocare Le carte Relative alla zona Su cui vogliamo fare Una determinata azione Azioni che saranno Quella di costruire le strade Migliorare queste strade Far muovere I nostri camioncini I nostri track Lungo le varie strade Per raggiungere Le varie città E utilizzarne I vari I vari bonus Gioco che Gigantesco A vederlo A un certo punto Poi dovremo anche scegliere Su cosa stiamo puntando Su cosa stiamo cercando Di fare punti E quindi ci sarà Anche questo gioco Questa corsa A determinare Su quali aspetti Del gioco Andare a puntare Gioco per giocatori Molto molto esperti Se ne è sentito comunque Per chi l'ha giocato Se ne è sentito Parlare Parlare bene E un gioco Chiaramente Molto Con un livello di complessità Molto elevato Non sicuramente Per tutti Ma Cragno C'ha anche abituato All'uscita Di titoli Di peso E quindi Ci sta E Lubigio Ci dice che c'è anche L'esponsione autogrill Che dà più punti Ai ristoranti Dove si fermano Più camionisti Esattamente Perché dove si fermano I camionisti Si mangia bene E si paga poco E non ci sono più Le mezze stagioni E quindi Con questa veduta Dall'alto Proprio di autobahn Con il nostro camioncino Che vedete Si aggira lungo Le strade Che noi andremo Proprio a costruire Fisicamente Mettendo giù Trattine Del nostro colore Ricorda proprio tanto Quei bei giochi Tipo Brass Quei bei giochi Con quella O alta tensione Una bella opa Della Germania Divisa in tutte Le sue varie regioni Renania Vestfalia La Baviera Eccetera Eccetera In cui andiamo A fare cose Con un chef rubio In copertino L'esponsione Telepass Velocizza la partita Ma quella La puoi utilizzare Solo dalla terza era In poi Prima non Prima non c'era E poi ricordiamo Che in Germania Le autostrade Non si pagano Quindi in realtà Esponsione Che poi hanno visto Essere un po' inutile E allora hanno preferito Hanno preferito Togliere Dallo Stracci goal Del loro Kickstarter Ma Con questo Quindi si concludono Le uscite Gli annunci In Italia Vi ricordo che Namiji è disponibile Se volete Punto esclamativo Gioco Per poterlo acquistare Così come tutti quanti I vostri giochi Su DungeonDice.it Intanto ho visto Di persone Presenti in chat Che hanno fatto ordini Durante questa live Grazie mille per lo screenshot E andiamo avanti Perché 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 All'estero Hanno anche annunciato Un sacco di cose Super mega interessanti Bravo Giovanno Prima ha provato A spoilerarci qualcosa Ma restate con noi Perché c'è qualcosa Che veramente Vi interesserà Un sacco Hanno annunciato Tra l'altro Anche un'espansione Per l'estate Del 2023 Hanno anche Annunciato L'espansione Per ora Soltanto in Inglese e francese Come potete vedere Anche dalla copertina L'espansione Di Ikki A che bono Che Fa molto ridere Il titolo in italiano Ah che bono Quello di In copertina A me fa ridere A me fa Sono stupido Lo so Ma a me fa molto ridere Espansione Che va ad aggiungere Una nuova porzione Di mappa Io non ho giocato A Ikki Non ancora Che bono Era quello Dice Le mie amiche Parlando Dei Duran Duran Ma anche Parlando Di te Luigi Secondo me Ispirato A Oh ma che Mono Signori Signori La puntata Finisce qui Tutti Tutti a battere Le mani Tutti a battere Le mani Meraviglia 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 Davvero Davvero Eccezionale Eccezionale Signore Signori Eccezionale Sascha L'abbiamo detto Assieme Che Plot twist Plot twist Ma che Cosa E Ragazzi Non ci posso Credere No No Vi prego Il tiktok Del tipo Che E tanto Che non Lo guardo Dovremmo Riguardarlo Assieme Un giorno Perché è qualcosa Di meraviglioso Quel Video E E Comunque Niente Questo Fantastico Titolo Così Perfetto Per questa Live Annunciato Faranno un'espansione Introduce nuovi personaggi Nuove carte Nuovi modi di fare punti Tutta una nuova parte Di tabellone Questo per ora è tutto ciò che è stato annunciato Cambiamo Scalmata Perché Perché se no Non vado più avanti E hanno anche un uccello Ve lo ricordate voi Rattus O sono una delle uniche persone in Italia Ad aver mai giocato a Rattus E tra l'altro aver giocato a Rattus Con tutte le sue espansioni Perché è un gioco di maggioranze Super cattivo Super super cattivo Bravo Alex che lo conosci Super super cattivo Perché questo Rattus È un gioco Ambientato nel periodo Delle grandi pestilenze In cui noi Cerchiamo di Prendere il controllo Delle varie zone d'Europa E anche dell'Africa Con l'espansione Africanus Utilizzando vari personaggi Con le loro abilità Tra cui anche Il pifferaio magico Nell'espansione Piet Piper Per Prendere il controllo Delle varie regioni E Mandare i Ratti Che portano la peste Nelle regioni controllate dagli altri È un gioco Super super cattivo Da questo punto di vista Di cui adesso esce Per l'appunto La Big Box Big Box Dove non solo Tutti i nuovi artwork Tutte le espansioni Già uscite Promo Eccetera eccetera Uscite negli anni Ma anche proprio Del nuovo materiale Creato opposto Per questa Big Box Gioco con una Grande cattiveria Vari personaggi Per l'appunto Ognuno che va a fare Le sue azioni Sposta personaggi Sposta cubetti Sposta Ratti E sposta controllo Nelle varie città E qua già anche Con la mappa Per l'appunto gigante Che va anche Ad aggiungere 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 Rattus Dalle tue parti Ha tutto un altro Significato E ci sta E come vedete Anche appunto Anche con la nuova grafica Un nuovo artwork Un gioco Adesso il primo Rattus Non mi ricordo Di che gioco sia Ma minimo Ma minimo Minimo Ma Vado a controllarlo Perché Secondo me Ha minimo Minimo 15 anni Rattus Ma magari Anche qualcosa di più Ed è il 2010 Quindi ha 12 anni A 12 anni Rattus Gliene avrà i dati Di più Lo facevo Lo facevo Più vecchio E E comunque Sì Finalmente Arriva anche In questa nuova edizione Rivisitata E Decisamente Bella E poi La Game Brewer Che è una Sempre giochi Piacevolissimi Vince il best Vince il best of show A Luca Grazie Alex Per averlo cercato Grazie Non mi ricordavo Di questo particolare E Diciamo La Game Brewer Arriva Con Un nuovo titolo Con un'ambientazione Super mega Simpatica Che è questo Trolls and Princesses Princesses Che Ci mette Per l'appunto Nei panni Di troll Che Dovranno Fare Tutte le cose Che amano Fare I troll Tra l'altro A proposito Quanto una storia Legata dietro Alle leggende Svedesi Legate al mondo Dei troll Che una volta Non erano Esseri cattivi Vivevano in armonia Con gli umani Poi sono stati Cacciati Sulle montagne Allora Hanno deciso Di utilizzare La loro magia Per iniziare A fare tutte le cose Che fanno i troll Di brutte e cattive E nel gioco Noi dobbiamo Impersonare questi troll Sarà un gioco Di piazzamento Lavoratori Da come ho capito Ma per adesso Non ci sono ancora Grosse informazioni Se non legate Per l'appunto All'universo Ambientativo Del gioco Anche Esatto Quindi nel gioco Sarà un piazzamento Lavoratori In cui andiamo In giro per i social In giro per i forum Nelle chat Di twitch A rompere le scatole Esattamente Fanno anche quello Ma in più Dovremmo andare A rapire Bambini A cucinare Le vergini Insomma Dovremmo fare Tutte queste cose Simpatiche Un po' come Megaman Se tutti dicono Che sei cattivo Allora tanto vale Esattamente E nel gioco Dovremmo però Comportarci male Andando in giro Con i nostri troll A fare cose Sul funzionamento In più del gioco Di come sono i materiali Quali saranno le meccaniche Si sa ancora nulla Ma mi ha molto divertito Questa ambientazione Allora ve ne volevo parlare Così come Mi ha colpito Questo Defenders of the Wild Mi ha colpito Un sacco per Anche qua La grafica della cover Perché non si vede Non si vede Null'altro Ancora per adesso Del gioco Ma si sa che avrà Due modalità di gioco Una cooperativa E una competitiva Ognuno di noi Gestirà una fazione Diciamo così Di animaletti del bosco Animaletti del bosco Che vivono In questo universo Un po' distopico Un po' Fantasy In cui le macchine Stanno prendendo il controllo Distruggendo tutto E abbattendo tutto quanto Il nostro I nostri regni E le nostre foreste E noi Se collaboreremo Ci dovremo unire Per sconfiggere le macchine E ritornare a vivere in armonia In modo competitivo Giocheremo contro di noi E allo stesso tempo Tutti quanti assieme Contro i nemici Che potrebbero comunque vincere Contro quindi le macchine Che potrebbero comunque vincere E far perdere tutti quanti La particolarità è che ogni Ogni fazione E' asimmetrica Però non so dirvi In che forma E in che modo Non si sa nulla Neanche qua ancora Di meccaniche Di cose in più Di elementi di gioco Creature Terminator Esatto Quello uccello da dietro Non se la passa benissimo No direi neanche Ma come vedete E' armato Quello uccello dietro Sta piantando un coltello Nel braccio robotico Di questa mega macchina Mi piace l'idea comunque Del gioco competitivo Ma comunque con un elemento Che tutti i giocatori Devono in qualche modo Bilanciarsi Per evitare di perdere tutti Che mi ricorda tanto Arcipelago di Böllinger Se lo conoscete L'avete mai giocato Non è un gioco perfetto Ma aveva questa bella idea Del fatto di dover Tutti quanti Comunque collaborare Per non far vincere il gioco Per quanto poi il gioco Sia competitivo Mi piace anche il fatto Che comunque ti diano La possibilità di giocarlo In modo totalmente collaborativo Che è probabilmente il modo migliore Per imparare a gestire bene La propria fazione Per poi dopo passare a questa A quest'altra A quest'altra modalità Speriamo nella fazione dei fagiani Assolutamente Assolutamente sì Perché ricordiamo Che lui c'è sempre Ci guarda Ci osserva E ci giudica Ciao fagiani Ti vogliamo ricordare così Con questa tua faccia Sconsolata E anche un po' Sbalordita Sulla copertina di Fasanerie Ma signore e signori Arriviamo a My Little Everdell Signori cosa l'ho annunciato Dopo aver fatto uscire La Mega Big Box Collector Edition Di Everdell Annunciano questi Balordi La versione Per bambini Di Everdell Ma non prendetelo Come un gioco Per bambini Vi scongiuro Vi scongiuro Perché Perché È una versione Più semplificata Di Everdell Ok In alcuni aspetti Ma comunque Secondo me Non è proprio 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 Per bambini Ok Io non penso Di poterglielo dare In mano a Giulia e Nicolò Ecco Magari a Ivan Manu Potrebbe Potrebbe avere un senso È la versione bonsai Esatto Il mio alberello Si potrebbe chiamare Non c'è L'alberello di Everdell Perché Vale Intanto Infazzisce Per adesso Questo l'hanno annunciato Non esiste neanche ancora In inglese Per ora è annunciato Arriverà in inglese Io mi auguro Tantissimo Che arrivi poi anche In italiano Da parte di Asmodee O da chi per essi Dico Asmodee Perché Asmodee Che ha portato in Italia A Everdell Speriamo Perché come vedete Le carte Avranno sempre Il loro costo Avranno sempre Le loro abilità Avranno sempre I loro I loro effetti Quindi Effetto Blu Effetto Permanente Per tutto Il resto Della partita Ricordati che ogni volta Che giochi Un animaletto Topolino Ottieni una moneta Ovvero un punto Vittoria Ho chiuso il mito Di lavoro Con Roma Per ascoltarti Grande Egno Così che si fa Ma hai bisogno Che te la faccia In accento In accento Romano Perché posso Farlo così Giulia Non mi rivolge Mai più la parola Che non sarebbe Una cosa positiva Ma di sicuro Capiterebbe E abbiamo Come sempre Le risorse Anche qua Avremo lo spazio azione Dove poter Mandare il nostro Mino Per ottenere La bacca Ok Perché questo qua È il loro setto Delle bacche Il berry bear Molto simpatico La scatola di Everdel Dice dai sei anni In su Ma dici Everdel Classico Dai sei anni In su Questo Ma il Little Everdel Adesso non so dirti Che età venga dato Però secondo me Ha comunque Testo da leggere Tante abilità Da ricordare E da riuscire Ad incastrare Tra di loro Ok Abilità In media Ah la Little Sei anni Ok Io Sarà che ho lavorato Nelle scuole A sei anni Hai appena iniziato A imparare a leggere E anche leggere solo Sposta uno Dei tuoi amici E attivalo In una nuova location E attivalo In un nuovo luogo Secondo me Non è così immediato Per un bambino Di sei anni Ok Otto Nove Ok Sei anni Anche no Ma perché sei anni Leggerti Muovi uno Dei tuoi amici Ci mette Tanto a leggerlo Patatino Specialmente Se ha sei anni E hai iniziato scuola Da due mesi Amore mio Cioè No Cioè Secondo me E poi Sbaglierò Sicuramente Tutto quello Che volete Però è lo stesso Principio Per cui anche Vale Martedì che parlava Di fiabe di stoffe Storie di famigli Questo martedì O quello prima Non mi ricordo più Sostiene che no Non sia per bambini Perché no Non è per bambini Un gioco dove Prima di iniziare a leggere To Leggiti quattro paginate Front e retro Scritte In time New Roman 12 Di ambientazione Della storia Da solo Non te lo sa fare Si rompe i maroni Prima ancora di iniziare Comunque Grazie Vale Per il supporto Ma capire qualcosa Ti darà benefici in futuro È difficile Ma assolutamente Assolutamente sì Comunque Particolarità Le risorse Non ci saranno più Gli spazi Dove prenderle Ma lanci il dado In questo L'hanno quindi Semplificato Ok Oh ma si chiama Come la carta Nella Oh ma si chiama Come me La carta Nella foto Plot twist Ditch floor Non lo tengo Di me Non lo tengo Di me Ah Io mi ero Formato all'air Balloni in mezzo Ma che giornata è Ma è bellissima Questa giornata Amici Ma cosa succede No Eccezionale Eccezionale No No Pensierino Guarino Cioè sì L'ho già fatto Ma nessuno Me l'ha chiesto Mamma mia Tanta roba Tanta roba Noi dicevo Le risorse Si otterranno Lanciando dei dadi E quindi Da questo punto di vista Ok Me lo semplifichi La gestione Delle risorse Però secondo me Comunque a livello Di carte Di effetti Di abilità Un qualcosina Di più Che i sei anni Secondo me È richiesto Assolutamente Qua una visione D'insieme Non c'è più l'albero Ma ci sono le scatoline Porta risorse Risorse Da cui mancano i ciottoli Quindi c'è anche una risorsa C'è anche una risorsa in meno Eccole qua le scatoline Quindi avremo l'ambra Il legno Le bacche E le monete I nostri I nostri punti vittorie Ecco vedete Le risorse che si prendono Andando a lanciare A lanciare i dadi Io lo comprare già solo per i dadi Bello il dadino Chi sarà il prossimo Chi lo sa Chi lo sa Continuiamo Continuiamo a seguire A seguire la live Ma Parliamo un attimo Di Unmatched Perché come sapete Hanno annunciato Oltre due scatole Di Unmatched Se non lo sapete Sapevatelo Perché ve ne ho parlato Allo sfinimento E hanno annunciato Team Spirit Di cui c'è stato Un reveal Delle miniature Perché In alcune scatole Della Delle scatole Marvel Non della prima tiratura Che è quella che ho io Ma della seconda Hanno messo all'interno Un foglio Con tutte quante Le scatole I personaggi Per segnarti Ci ho giocato Ci ho vinto E hanno già Mostrato anche Le miniature Dei personaggi Che saranno presenti All'interno Per l'appunto Delle prossime Due scatole A tema Marvel In Team Spirit Avranno infatti Il duo Clock and Dagger Che sono proprio Una coppia Fumettistica Ma hanno fatto addirittura Una serie Mi sembra su Prime Dedicata a Clock and Dagger Che Praticamente Uno assorbe l'energia Per darla all'altro Per caricarsi Eccetera eccetera Quindi ci stanno Benissimo come coppia E come vedete La prima Cioè non i primi Ma perché c'è Un J-Raptor Ma abbiamo Due eroi Non sono eroe E sidekick Ma sono entrambi Miniature Quindi entrambi Eroi Quindi entrambi Da sconfiggere Per poter considerare Vinta la nostra partita Molto particolarità E Faranno pedina grande Sì sono due eroi Sono entrambi eroi Di Earth to Slay Arriveranno una distanza Dall'altra Riusciranno a far uscire Tutte questo mese Non te lo so dire Pensierino Guarino Per date di uscita Controllate sempre Dungeon Dice Nella pagina dei preordini Perché quando mette una data Dungeon Dice Perché quella data È quanto più possibile Sicura Non mettono date Tipo Faranno pedina grande Sì c'è scritto solo il mese L'espansione di Natale Di Earth to Slay È meravigliosa Questa mi manca Ma ritorniamo al nostro Fantastico Unmatched Che vi ricordo Oggi tutti gli Unmatched Sono in sconto Fino a domani A mezzanotte Col 25% di sconto Grazie al calendario Dell'avvento Che trovate Su DungeonDice.it Prego non c'è di che Se proprio oggi Che hanno chiesto a me Cosa mandare In sconto Ho scelto Tutte quante le scatole Unmatched Dicevo Oltre a Clock and Dagger Che saranno entrambi eroi Entrambi pedina grande Avremo Squirrel Girl E avremo Miss Marvel Miss Marvel Che abbiamo conosciuto Durante anche la serie A lei dedicata Su Disney Plus Che rivedremo In Marvels Ovvero Capitan Marvel 2 Squirrel Girl Avrà sicuramente Non so perché Avrò come l'idea Che come sai Che avrà un sacco Di token Scoiattolo Che potrà mandare In giro per la mappa Chissà perché Ho questa ideuzza E poi hanno anche fatto vedere Le minia Di Forking and Country Dove avremo La vedova nera Con questa posa Molto Molto plastica Il soldato d'inverno E Pantera nera Black Panther Come altri personaggi Utilizzabili Per ora non si sa ancora Quali saranno Le loro Le loro abilità Ma Abbiamo Così Finalmente Visto anche Le miniature La cosa più particolare La proprio su Clock and Dagger Il fatto che Fortunatamente Sono entrambe Miniature Miniature grandi Entrambi eroi Proprio come i Raptor Nella scatola di Nguyen Che sono tre eroi Quindi tre da buttare giù Per poter considerare Vinta la partita Allora Vado solo a rimpicciolire Un attimino Questa schermata Prima di passare oltre Perché Se siete Fan Con dei giochi Dei giochi Deduttivi Alla Cluedo Per capirci E non Conoscevate ancora Il mistero Della Abbazia Gioco di Bruno Fai Dutti Uscito Anche qua Anni 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 Quale monaco Ha commesso Il fatto In quale stanza In quale ora Del giorno Utilizzando Quale strumento Per compiere Il fattaccio Ciao Melks Ciao Ciao Gioco Che era uscito Con Days of Wonder Nella linea Di giochi Scatolona quadrata Della Days of Wonder Anni 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 Riesce In una nuova edizione Rivista Pimpata Nuovi materiali Tutto bello Da parte della Mojito Studios Che hanno già fatto Anche la Per esempio Tra le varie Rebranding Che hanno fatto Di giochi famosi Avevano fatto Quello lì Sempre Della Days of Wonder Di Cleopatra E The Society Of The Architects Cleopatra La società degli architetti Che se ce l'avete presente L'hanno provato Questa versione rinnovata Iper pimpata Anche dal punto di vista Dei materiali Anche lì Di un gioco Sempre alla stessa linea Molto vecchio Stessa cosa Che stanno Che stanno Riportando Qua Ehi Sta parlando Di me Chi è che Si è fatto L'account Apposta Solo per farmi ridere Perché Ma di paura Ciao Spazza Ma Ma Quanto Tipo Da Per Ma Ma si può Ma Ma si può Uscire apposta Crearsi un account Al volo Col nome di un gioco Di questo Scusate Scusate Pensiero Guarino Mi fa Una domanda Ci sono Seconde Dei giochi Si viene a bet Rai Nel suo stesso Livello Quindi Collaborativo Contraditore Guardati Guardati Che è uscito O sta uscendo Controlla Su dungeon dice Ne abbiamo parlato Lunedì scorso Di Oh mamma mia Zombie Winter Dead of Winter Di Dead of Winter Guardati Quello Perché Secondo me Eccezionale Ed ha la stessa Bellissima Meccanica Di Collaborativo Col traditore Ma è Molto È molto Limite È molto Bello È molto Molto Bello Un'altissima Tensione Per tutta La partita Ti dico Quello Perché So dirti Anche che È disponibile Quindi Se vai Su Dungeon Dice Guarda Te lo Confermo In diretta Ma dovrebbe Essere Sì È disponibile È disponibile Quindi Ti consiglio Assolutamente Quello Che A me Piace più Che Betrayal Quindi Assolutamente Se lo ordini Entro mezz'ora Ti arriva domani Dai 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 Comunque Siamo in periodo Natalizio Quindi potrebbe Eserci qualche Piccolo Piccolo Ritardo Materiale speciale Fino a oggi Non mi perderete Ma Ravensburger Ha annunciato Questo Sakura Heroes Gioco di Set Collection Con questa ambientazione Orientaleggiante Super carina Non si sa niente Di sto gioco Ma ho visto la cover Ho detto Ah che bella Inizio a salvarmi la cover Poi inizio a cercare informazioni Poi ho cercato informazioni E Praticamente Non si sa niente Se non Che Ambientato in questo universo Prendiamo delle carte Per Fare un Collezione Set Esatto Dai Vediamo Chi si registra Con un Sakura Heroes Vediamo Eccezionale Comunque Eccezionale Ma Ho sbagliato Freccia Hanno anche Annunciato Da parte di Cosmos Un nuovo Titolo Della serie Suspects Che in italiano È diventata In giallo Come sapete Di in giallo Già è stato annunciato Per il 2023 Da MS Perché ne abbiamo parlato Un paio di next fa La seconda In giallo 2 Diciamo Quindi sempre Con la nostra stessa Investigatrice Sempre in questa Ambientazione Agatha cristiana Se si può usare Come aggettivo Il nome di una persona Ma hanno annunciato Anche già Una nuova linea Che uscirà Sempre della serie In giallo Ma questa volta Con Un nuovo Protagonista Non si sa Ancora Non si sa Ancora Nulla Ma ci sarà Questa ambientazione Shakespeareana Fondamentalmente Grazie Ennio Grazie Ennio Per aver rinnovato L'abbonamento Grazie davvero E quindi Molto Molto felice In viola A questo Zero Non più in giallo Ma in viola Ma Mi Mi ha Ti posso Ridire Per il serino Che sono partito Da pubblicità Sì Dead of Winter È disponibile Su DungeonDice Punto It Quindi Prendilo I Ravensburger Sono panini Con la carne E i corvo Sì Assolutamente Sì Perché vuol dire Esattamente Quello E E quindi Molto felice Anche di quest'altro Annuncio Da parte di Cosmos Così come Chissà se mai Arriverà in italiano Ma hanno annunciato Anche Una nuova Scatola grande Di Le leggende Di Andor Che sta Continuando ad avere Un enorme successo In Germania Il gioco di Michael Menzel Famosissimo Illustratore di giochi Qua all'epoca Alla sua prima Esperienza Come game designer Gioco di grande successo Che sta infatti Continuando ad avere Un sacco di scatole Un sacco di espansioni Tra cui Questa nuova Questa nuova scatola Con questa Ambientazione Invernale In cui dovremo Combattere Anche contro Il freddo E una Freddo Persistente Una nevicata E questa Bufera di neve Incessante Che ha colpito Le nostre terre Molto misteriosa Sulla quale Dovremo andare Ad indagare Come sempre Nei panni Dello stregone Cavaliere Ranger E nano Per andare Per andare A appunto Così Su questa mappa Tutta quanta Innevata A combattere Mostri E risolvere Misteri Dato che è uscito Una serie Disney Plus Che si chiama proprio Andor Nessuno dovrebbero Fare un'espansione Con un'ambientazione Che si pari Che lo schio Star Wars Evocate da Disney Non potrebbero dire Nulla stavolta Giusto Le leggende di Andor Si svolge su Ott Che penso sia Un pianeta Di Star Wars Sempre Ma io come sapete Star Wars Non lo conosco Ho dormito pesantemente Provando a vederlo Quindi non ho visto Neanche Andor Di cui però Ho sentito parlare Dire meraviglie Di questa serie Su Andor E siccome L'unico prodotto Di tutto l'universo Star Wars Su cui non ho dormito È proprio Rogue One Chissà che magari Non mi vedrò Andor Prima o poi E basta E poi abbiamo di nuovo Il nostro amico Obakemono E quindi Ritorniamo un attimo Grandi Signore e signori E grazie per le risate Di oggi E volevo bere Ah Ott È un pianeta Ghiacciato Ok Grazie per Avermela spiegata Chiedo scusa Ma proprio davvero Io di Star Wars So tipo Zero Ma signore e signori Siamo giunti Alla fine Di questa Live Di questo Next Del 5 dicembre Io vi ricordo Ancora che Ancora domani Ancora mercoledì Domani alle 13 Con Board & Dart Mercoledì alle 13 Con Silvia E con Live 5 Si chiuderà questo 2022 Di trasmissioni Di live Di quotidianità Assieme a voi Quindi visto che questo Sarà l'ultimo momento Di quest'anno Di quest'anno Di appunto Live Qua assieme a voi Qua sugli schermi Di DungeonDice Punto It TV Sono incartato Voglio ringraziare Tutti quanti voi Che siete sempre stati Così numerosi Ogni lunedì A seguire con me Tutte quante Le news Lanciate In giro per l'Ether Dedicate al mondo Dei giochi da tavolo Spero che abbiate apprezzato Anche il tentativo Di non parlare Solo ed esclusivamente Di giochi ogni volta Ma anche di andare a cercare Qualche notizia Un po' più particolare Come quest'oggi Abbiamo visto Il tizio A scommettiamo che Piuttosto che la candela Al profumo Di gioco da tavolo nuovo Di modo da riuscire anche a spaziare E riuscire a far capire Anche con una trasmissione Così di un'oretta e mezza Che vuole essere Sì di informazione Ma anche di intrattenimento Che il gioco da tavolo Può avere molte sfaccettature E non avere soltanto Una narrazione Molto meccanica Molto precisa Molto Con un taglio E un gergo Riservato soltanto Agli addetti ai lavori Questo è ciò Che ho cercato di portarvi In quest'anno Durante Next Che è cresciuto Si è evoluto Assieme a voi Assieme a tutti quanti Un mega grazie A tutti quanti I miei compagni di viaggio Durante questa avventura E un mega grazie A tutto quanto Lo staff di DungeonDice.it Zero Sam E tutto il gruppo Alle spalle Di questa mattata Che è stata fatta Quest'anno Perché davvero Ci sono state date In mano Le chiavi di casa Di altre persone Dandoci la possibilità Di raccontare Con la nostra voce Con il nostro modo Quello che è Il nostro mondo Ognuno Proprio modo Ognuno con Il proprio stile Ognuno con la propria voce Ognuno con il proprio Taglio di voce Io per questo Voglio davvero Ringraziare tantissimo Tutti coloro Che ci hanno permesso Di essere qui Mario in primis Lidia E tutto il resto Della squadra Non nomino tutti Perché so che Dimenticherei qualcuno E mi farei Una mega Mega figuraccia Ci rivedremo Nel prossimo anno Enmi Assolutamente Sì Ciao lenders Ben arrivato Grazie davvero Di cuore A tutti quanti Facciamo ancora Quindi un ride Perché poi Domani vedrete Vale Ma me non mi vedrete più E quindi Festa grossa Vedo che c'è Kuro Lili in live Quindi facciamo un salto Da Kuro Lili Che sta giocando A God of War Ragnarok Io quindi Vi ringrazio tantissimo Per tutto quanto Ringrazio tantissimo Il mio amico Pagianni Per averci Accompagnato Durante questo Queste avventure In next Ciao Pagianni Ci si vede Dall'altra parte Io vi ricordo Di continuare a seguire DungeonDice TV Di fare tutti quanti I vostri acquisti Su dagiondice.it Noi ci vediamo ancora Come sempre Anche in giro Per l'internet Perché i giullari Continuano ad aspettarvi Ci vediamo ancora Un poco e non mi vedrete Un poco ancora E mi vedrete Quindi a prestissimo E con queste parole Di Lupigio E un bellissimo messaggio Di Mystery of the Day Spero di vederti ancora In live Facciamo un ride A Kuro Lili E a presto A tutti quanti Ciao ragazzi